Ciao a tutti e bentornati a un nuovo Aperistoria. Con cosa accompagnate l'Aperistoria di oggi? E beh, se avete letto il titolo, io vi potrei consigliare di accompagnarlo con qualunque cosa, basta che sia un po' calmante, ma soprattutto è molto importante che lo begliate in un bel bicchiere leggero, magari di plastica, così che se poi presi dalla rabbia decidete di tirarlo contro lo schermo o direttamente contro di me venendomi a cercare a casa, almeno non faccia male. Quindi potrebbe essere una buona indicazione. Perché la pillola di oggi, invece di raccontarvi una storia, è una pillola di discussione, una peristoria di discussione, una di quelle in cui vi do il mio parere su una cosa e chiedo a voi di dirmi se la pensate allo stesso modo o se invece la pensate in maniera completamente diversa, perché una delle cose più belle in questo caso è cercare di discutere un po' anche nei commenti. Partiamo dall'inizio. Qualche giorno fa un divulgatore scientifico, nonché chimico, bravissimo, Dario Bressanini che seguo su Instagram, vi metto in descrizione il link al suo Instagram, caso mai non lo conosceste, ha tirato fuori in una storia, che trovate ancora ovviamente sul suo Instagram nelle storie passate, un vecchio cavallo di battaglia delle discussioni, che era già bello diffuso, bello discusso soprattutto, quando a fare liceo ero io. Cioè se al liceo scientifico sia ancora veramente necessario, oppure no, oppure sia solo una perita di tempo, studiare il latino. Bressanini ha dato una lunga spiegazione, una storia veramente lunghissima, cercato di analizzare le motivazioni e ve lo dico subito, la sua risposta è stata no. Con la peristoria di oggi cercherò di darvi la mia di risposta, anche perché, come vi dicevo, ho fatto liceo scientifico, come molti di voi sanno, ho fatto, ho anche una laurea di tipo scientifico, cioè medicina, ma per passione mi interesso di campo umanistico, come ad altronde è la storia, anche se su alcuni punti anche la storia ha anche di scientifico, e quindi mi sento di essere abbastanza in mezzo per poter valutare entrambe le cose. Prima di iniziare la discussione, due punti importantissimi. Il primo, si parla di liceo scientifico, scientifico, non di liceo in generale. Il primo che mi dice, ma io al classico devo studiare latino? Sì, perché il classico prevede che tu studi latino e greco. Hai fatto il classico, quella è la tua decisione, ma qui si parla di liceo scientifico. Il secondo punto è che si parlerà, e io parlerò, ma vi farò poi bene il distingo dopo, di grammatica e traduzione dal latino, non di studio della letteratura latina, che secondo me è una cosa diversa, ma ripeto, non espliciterò meglio dopo. Partiamo dall'inizio. Perché vi ho detto che quei bicchieri è meglio se li prendete leggeri? Perché io vi dico subito che sono perfettamente d'accordo con Bressanini. Sono perfettamente d'accordo con l'idea che oggi, al liceo scientifico, studiare il latino, studiare la capacità di tradurre dal latino, la grammatica latina e quant'altro, sia una perdita di tempo. Vi lo dico? Buttato lì, buttato lì così. O meglio, non una perdita di tempo, che forse è un termine un po' brutto da dire, perché qualunque cosa uno impari non è una perdita di tempo, qualunque cosa sia. Ma secondo me è un lusso che in questo momento il liceo scientifico non si può permettere, perché dovrebbe dedicare le sue ore ad altre materie. Mi spiego meglio. Partiamo dall'inizio. Questo pensiero che vi dico in realtà, o da tantissimo tempo, da quando anch'io facevo il liceo scientifico e metto le mani avanti, non avevo dei brutti voti in latino, quindi non è causato da idee legate ai voti, ve lo dico subito assolutamente. E saluto in questo le mie professoresse di latino, soprattutto la professoressa Merio del Trienio, che mi ha sopportato per tre anni e potete immaginare che cosa volesse dire, per quanto io sia polemico. Ad ogni modo, questo mio pensiero nasce legato ad un fatto molto semplice, cioè che in realtà la scuola è vero che potenzialmente può insegnare il più possibile, ma questo più possibile deve essere in qualche modo limitato e impacchettato. Perché? Perché innanzitutto uno non può andare a scuola 12 ore al giorno per 7 giorni la settimana. È semplicemente impossibile, non si può prevedere una scuola che abbia un numero infinito di ore per poter trattare tutte le materie. Inoltre anche la capacità di attenzione e di memorizzare di uno studente normale, con degli interessi normali che, viva Dio, sono anche al di fuori della scuola, è ovviamente limitata. E quindi è necessario non limitare il programma, ovviamente no, ma quantomeno cercare di concentrarsi su quelli che sono gli ambiti più importanti. A me piacerebbe moltissimo che a scuola si facessero 15 ore alla settimana di storia, sicuramente non basterebbero per parlare di tutto, ma mi rendo conto che un liceo che deve dare una preparazione ampia su varie materie deve fare delle scelte. E questo, lo dico chiaramente perché so che qualcuno me lo dirà, non è una perdita, ma è una scelta. Una scelta di creare una preparazione ampia, ampia su più argomenti, di modo da permettere agli studenti di avere poi ognuno la sua strada. Voi direte, ma questo che ho appena detto, cioè l'idea di creare una preparazione ampia, non va proprio a contrasto con l'idea di togliere una materia come il latino? Secondo me no. Secondo me no perché, se andiamo ad analizzare, oggi il latino ha molto meno motivazioni di essere insegnato in un liceo indirizzato verso l'ambito scientifico come sulla carta dovrebbe essere il liceo scientifico. Una delle cose che si dicevano, si dicevano quando io studiavo l'esempio liceo scientifico, era che il latino, dopo tutto, rimane la lingua della scienza e che imparare il latino ti permette di capire molto più facilmente quando poi uno, arrivato all'università, si troverà a studiare dei termini scientifici. Ora, questa cosa è falsa. Ve lo dico chiaramente, poteva forse essere vera 40 anni fa, 50 anni fa, ma oggi è falsa. Ed è falsa anche per una materia, come ad esempio medicina, che per molto tempo è stata considerata il caposaldo delle ultime materie ancora ancorate al latino. Non è più così. È vero che quando si studia anatomia si usano ancora talvolta dei termini derivanti dal latino, ma al di là del fatto che studiare 5 anni latino per non studiare qualche termine a memoria mi sembra una completa assurdità, ma in realtà anche per medicina, come per la stragrande maggioranza delle scienze, delle materie scientifiche di oggi, ormai la lingua che si utilizza è l'inglese, è l'inglese, che a torto ha ragione e ormai considerata una lingua franca del mondo, che permette di rendere intellegibili e comprensibili le ricerche di varie zone del mondo, di modo che ogni zona possa comunicare i propri avanzamenti e le proprie ricerche. Se io sapessi perfettamente il latino, ma non sapessi l'inglese, non avrei potuto mai fare una tesi in medicina, perché il 99,999% degli articoli che ho consultato per la mia tesi sono scritti in inglese, perché quella è la lingua che si utilizza in medicina. I termini di tutto quello che viene scoperto oggi sono in inglese, non sono più in latino, e così via. Certo, alcuni derivano dal latino, ma semplicemente perché alcuni termini inglesi derivano dal latino. E se viene scoperto in Italia, comunque si utilizzano termini eventualmente in italiano, in francese, e così via. Non in latino. Ed è così per tantissime altre scienze, quindi materie scientifiche. Quindi questo motivo cade completamente. Il secondo motivo per cui si dice che è importante studiare il latino è perché il latino apre la mente, aiuta il ragazzo a imparare a ragionare, lo aiuta a formarsi in un percorso di sviluppo mentale, e questo devo dire che è vero. Devo dire che è vero. Il latino, a differenza di tante altre lingue, per chi l'ha studiato lo sa, è una lingua molto precisa che obbliga, ogni volta che lo si traduce, a non poter seguire semplicemente il senso della frase, ma dover andare a interpretare ogni singola parola, attraverso i casi e tutto il resto, per cercare di trovargli il punto esatto. Sbagliare ad interpretare una singola parola, non nel significato della parola, quanto nel suo caso, e quindi insomma quale che sia il suo ruolo nella frase, rischia di far completamente travisare la traduzione di una frase. Quindi una lingua molto precisa che obbliga a rimanere concentrati mentre la si studia. Quindi è verissimo che a questo serve. Ma il latino non è l'unica materia che ti obbliga a queste cose. Ti obbliga a queste cose qualunque materia che utilizza la logica, la matematica, l'informatica, tanto per rimanere in ambito scientifico, la chimica, che io ve lo dico chiaramente, quando ho fatto il liceo scientifico praticamente non veniva quasi trattata se non per veramente pochissime ore, e che invece meriterebbe di essere trattata tantissimo e che ha un modo di ragionare che sotto un certo punto di vista è molto simile a quello che si usa quando si fa una traduzione. Quindi ancora una volta non è che il latino non funzioni, ma altre materie che forse possono poi essere più utili in un progressivo, in uno studio a seguire di tipo scientifico, avrebbero lo stesso effetto. La terza cosa che si dice è che senza imparare la grammatica latina diventa impossibile parlare di letteratura latina. Eh, questa cosa l'ho sempre trovata molto stupida, perché io ho studiato letteratura tedesca senza sapere una parola di tedesco, mi hanno parlato degli autori e ho letto i libri tradotti in italiano, nel modo migliore possibile. Mi hanno parlato di letteratura inglese, mentre studiavo inglese, ma in realtà me ne avevano già parlato in passato in molti libri li ho letti tradotti in italiano, all'epoca, oggi li forse li leggerei anche in inglese con qualche problema in meno dell'epoca, ma insomma, si può studiare letteratura anche nelle traduzioni. È ovvio che se io voglio una preparazione di tipo universitario, avrò a un certo punto bisogno di imparare la lingua, anche perché le traduzioni intanto non sono fonte diretta e poi ovviamente vanno a far perdere delle sfumature, ma quella è una preparazione di interesse personale o di preparazione universitaria. La letteratura latina, a mio parere, va studiata, va studiata perché fa parte del nostro passato, fa parte di quel percorso di formazione della letteratura moderna che deve far parte di ogni percorso di studi di un liceale, ma in realtà di qualunque scuola secondaria, ma può essere studiata anche senza sapere la grammatica latina. È ovvio che si perderanno delle sfumature, è ovvio che alcune cose, soprattutto le poesie, diventeranno meno fruibili, ma credo che questa cosa la accettiamo per tantissimi tipi di letteratura, non vedo perché non la si possa accettare per la letteratura latina. Il quarto punto, e anche qui mi ha sempre fatto molto sorridere, è che si dice che imparare il latino aiuti a imparare le lingue straniere, aiuti a imparare le lingue che derivano dal latino come il francese o lo spagnolo, e questo vi devo dire che è una stupida agile colossale, perché sì, ci sono dei termini che sono simili, ma tanto vale, mentre imparo in latino, che poi tante volte sono simili anche in italiano, ma mentre imparo in latino, tanto vale che impari in francese o in spagnolo, ma, ripeto, tant'è, poi la struttura è completamente diversa, qualcuno dice che sia utile per imparare il tedesco. Qua, ripeto, non posso dire perfettamente la mia, ma di nuovo torno a chiedermi, non vale a questo punto, non tanto vale a questo punto imparare direttamente il tedesco e non il latino? Insomma, tutte queste motivazioni a me sanno di una gigantesca grattata di unghie, di un gigantesco tentativo di mantenere un qualcosa che è stato deciso negli anni venti, ma che poi, col passare del tempo, ha progressivamente perso di importanza. Ora, io non dico che non sia importante studiare il latino, è una materia che sicuramente, come tante altre lingue, ha tutto il suo interesse. Per un appassionato, forse, per un ragazzo che sta facendo liceo scientifico per prepararsi, per iniziare a prepararsi all'università, forse altre sono le materie che sarebbe interessante trattare. Ora, io so che a questo punto qualcuno potrebbe ancora dirmi una cosa. Il liceo non è un istituto tecnico, il liceo non deve solamente preparare, ma deve dare anche un'istruzione. E un'istruzione più ampia possibile è ovviamente un'istruzione da preferire. Vero? Ma qui ritorniamo al discorso che abbiamo all'inizio. Bisogna essere realistici. Un'istruzione più ampia possibile è possibile solo se si fanno delle scelte. Se io costringo una persona a studiare 20 ore al giorno per poter trattare tutte le materie che cercherò di spiegargli, quella persona non ricorderà nulla o ricorderà pochissimo. Una persona, un ragazzo, deve essere formato e gli deve essere anche lasciato il tempo per poter trovarsi da solo i propri interessi. E se tra quegli interessi ci sarà la storia di Roma, se quegli interessi ci sarà la letteratura latina, allora sarà lui a voler imparare il latino. Oppure, oppure, sarà lui, quando farà le medie, a fare una scelta diversa e invece del liceo scientifico sceglierà il liceo classico. Un ibrido, perché poi il classico è diciamo un liceo abbastanza specializzato, lo scientifico, è un liceo forse un po' più ibrido, secondo me serve a poco o a niente. sarebbe meglio dedicarsi ad altre materie scientifiche che vengono un po' tralasciate e piuttosto lasciar perdere la grammatica latina. Poi se uno ha la passione, prima o poi ci arriverà e tornerà e andrà ad impararla. Io mi fermo qua, brinderei a voi, a chi ancora il bicchiere in mano e non me l'ha già lanciato e sono curioso di sapere quale sia la vostra idea su questo argomento. Alla salute! Sto aspettando i bicchieri. Ciao ciao!